Un saluto a tutti gli amici di Monte Sant'Angelo e di BTM Interazioni, ieri sono stato ospite nella bellissima cornice del castello di Monte Sant'Angelo proprio per parlare di come il digitale e i nuovi linguaggi possano contribuire alla crescita turistico-culturale dei nostri territori, sia generando nuovi modi per espedire la visita, penso a cosa possono fare i videogiochi, in questo senso il cosiddetto turismo videoludico e quindi videogiochi ambientati in una città reale, in un luogo reale che viaggiano, raggiungono giocatori in tutto il mondo che poi decidono di visitare fisicamente quel luogo, o penso proprio a nuove forme di esperienziali legate al digitale come le mostre immersive, luoghi come l'Atelier de Lumière in Francia che stanno generando milioni di visitatori. Quello che è importante capire è che il digitale non è nemico delle esperienze analogiche, fisiche e tradizionali, ma lavorando insieme noi abbiamo bisogno, noi creativi, delle radici presenti in ogni territorio e invece chi gestisce, chi lavora con le radici spesso ha bisogno delle ali che noi siamo in grado di dare loro per raggiungere nuovi pubblici, per estendere l'arco di visita, ieri citavo progetti come Father & Son a Napoli o Play Alghero in Sardegna che hanno ormai dimostrato come sia possibile utilizzare in modo intelligente le nuove tecnologie. Ciao da Fabio Viola